bene ragazzi e bentornati sul mio canale, stiamo qui oggi con questo nuovo video reaction spalio juventus nella tua squadra con tutti i rizzo sì lasciate 10.000 mi piace se volete la reazione di juventra allo stadium tira sado 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 ma sembrava golla ma non è entrava aiaronaldo puoi segnare oddio, lo uccideva se lo prendeva in fama si share s st gogo come dice martin piondo, gogo come un riccio dicesimo gol consecutivo per cristiano ronaldo con tanti rigori immobile fatti 11 su 14 finisce ma primo tempo 1 0 per la juve ragazzi stiamo girando veramente bene dobbiamo adesso mantenere questo vantaggio e poi al secondo tempo chiudere questa partita io ora vado a segnare petagna va a segnare no 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 dobbiamo vincere ragazzi ciao si riparte col secondo tempo ragazzi dobbiamo vincere assolutamente no valeggiare valeggiare provala nooo siiii separata oh tira che gol grande ramsey che colasso andiamo a un caso di ripala ma che palo che che scavento gli ha fatto che scavento gli ha fatto ragazzi quando segnala ramsey muore uno youtuber attacca l'area missiroli strepenza forte per missiroli un rigore di essere onesti non ha visto niente al monitor che fidato del bar ma giusto sono 4 anni hanno servito le play ma c'è sti parola marco bello grande picco grande picco grande picco vabbè 2 1 ora dobbiamo stare attenti raga finisce qua ragazzi 2 a 1 sofferta comunque nel finale cioè comunque la spalla un po' è uscita e ci ha fatto un po' cagare sotto tra virgolette comunque si vince si pensa già a Juve Inter ragazzi super big match assolutamente però prima c'è la Champions quindi anche lì dobbiamo vincere a Lione non sarà facile non sarà facile comunque Lione è in casa ci proverà in tutti i modi in tutti i modi quello dai quindi ragazzi si vince da Tattino a Ierix è tutto noi ci vediamo al prossimo video bene ragazzi ciao 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 ciao